Quando nella vita scopriamo che qualcuno ci ha ingannato non è certamente una sensazione piacevole, ma quando scopriamo che a ingannarci è stata l'arte, allora si tratta solo di meraviglia e stupore. Sto ovviamente parlando della tecnica del trompele. Sono Filippo Manastero, un pittore professionista che lavora nel campo dell'arte dal 1988 e aiuta le persone più diverse ad avvicinarsi a questo mondo. In questo video voglio raccontarti come è strutturato e cosa andremo a fare nel workshop online sulla tecnica del trompele, un corso base di livello 1, di 10 ore. Con il termine trompele innanzitutto indichiamo tutte quelle decorazioni che hanno l'obiettivo di voler ingannare l'occhio dello spettatore, l'occhio di chi guarda. È una tecnica che prevede regole e principi molto precisi attraverso i quali possiamo andare a realizzare un effetto ottico illusorio che fa credere vero in rilievo o dare profondità a superfici che in realtà non hanno queste caratteristiche. Il termine trompele deriva dal francese e vuol dire proprio inganna l'occhio. Ovviamente un corso base di 10 ore non sarà sufficiente per andare magari poi a realizzare delle finte finestre, dei colonnati, dei soggetti e degli apparati decorativi molto articolati, ma un workshop come questo di 10 ore è assolutamente sufficiente per poter andare a comprendere in maniera precisa e profonda le caratteristiche, le regole e i principi che ispirano questa affascinante tecnica. Infatti insieme a me andremo ad esplorare la prospettiva, la teoria delle ombre e delle luci che sta alla base di questa tecnica pittorica e passo dopo passo insieme a me andrai a realizzare su un cartone telato come questo quattro modanature con la tecnica del termplay. Andremo a disegnare la superficie del nostro cartone telato interessato per le nostre modanature, andremo a realizzarci i colori insieme e andremo a vedere come si costruiscono i volumi di questi soggetti, in che progressione, andando a mettere in maniera corretta tutte le diverse tonalità che occorreranno utilizzare. I colori che andremo ad utilizzare sono dei colori a base acqua, delle pitture murali, quindi non ci saranno problemi né di sostanze tossiche o di allergeni e quindi sarà tutto molto semplice. È un corso base, l'obiettivo sono quattro modanature ma attraverso queste potrò passarti in maniera semplice ed efficace tutte le regole e i principi che la tecnica del trompe l'oeil ci chiede di osservare. Alla fine del workshop sarai in grado di realizzare le modanature che siamo andati a fare, potrai rifarle magari nella parete delle tue stanze o se sei un professionista potrai farlo magari intorno a delle finestre in facciata. Insomma, un utilizzo di questi soggetti certamente lo troveremo, anche perché qualsiasi apparato decorativo, anche più articolato in trompe l'oeil, prevede sempre una parte architettonica, quindi si parte da qui per andare poi verso l'ornato e verso tutto quello che si può andare a realizzare attraverso questa tecnica. Non resta che incontrarci online al workshop base della tecnica del trompe l'oeil. Tutte le info relativamente ai materiali necessari li trovi nel box interno allo shop online dove potrai acquistare il corso. Per registrarti puoi iscriverti direttamente sul sito e trovi i link nel post di Facebook, di Instagram, di YouTube, insomma da dove tu stai guardando questo video in questo momento. Troverai certamente all'interno del box tutto ciò che occorre per andare ad approfondire il programma e per iscriverti. Ti aspetto online. Ciao!